Disse di questa grande poetessa russa il premio Nobel Yosef Brodsky. Anna Chmatova è uno di quei poeti che semplicemente avvengono, che sbarcano nel mondo con uno stile già costruito ed una loro sensibilità unica. Arriva attrezzata di tutto punto e non somiglia mai a nessuno. Un grande e scottante amore è quello tra la poetessa e Modigliani. Non si sa molto della loro relazione. Quel poco che abbiamo proviene soprattutto dalla stessa Chmatova. Rimangono solo dei disegni fatti dall'artista toscano, ma sfortunatamente questi schizzi non diventarono dipinti o opere grafiche finite. Una poetessa ricordata con numerosi eventi culturali, concerti e letture di poesie. Il 3 e il 4 dicembre si terrà l'evento online Italia Chmatova, un'azione internazionale tra Mosca ed Italia, un percorso per ricordare il viaggio della poetessa in Italia, tra l'amore con Modigliani e le poesie di Leopardi.